L'opera del 2006, questo frammento di legno, per vent'anni l'ho guardato, 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 arrivo un giorno che mi si accende le lampadine nel cervello e ci ho realizzato questa croce indiagonale e l'ho chiamato il canto gallò, il titolo, non è il canto gallò, il canto gallò, qui ci sono le spine, le spine di questo Gesù non le ho realizzate io, l'ho fatto fare a tutti quegli amici e persone che capitano nello studio, ognuno che veniva, fammi una carità, modelli in una spina di Gesù, qui ci stanno le spine di Pasqualino, a me vi va bene, un monaco benedettino che è un santo, ci sta la spina di una prostituta, la spina di un tossico, la spina di un ladro e qualche spina sono anche le mie, questa è la storia di queste spine, perché siamo tutti creatori di Dio, anche con i difetti peggiori. questo qua Marcello, vogliamo dire due parole? questo qua si tratta la furia dell'acqua, la furia del fiume Tessino, Tessino, si, ci ho fatto questa maternità, poi il piccione l'ha smerdata tutta, ma va bene, fa parte della natura, la cacca costa più caro di un'altra, questa sotto che è questa sotto? questa è la cacciata, cacciata dal paradiso, di sotterrestri, quella è Eva e Adamo, si, si ha portato via pure il suo bastoncino, e lui è un po' arrabbiato, Allora andiamo, vediamo in quest'altro locale cosa c'è, ok, qui che ci abbiamo? qui ci abbiamo un fascio di legna, io andavo, non vado più, al cimitero, quando riassumono i cadaveri, che fanno quel fascetto di ossa, le legano, quello che dura di più nell'esistenza dell'uomo non è la calma, sono le ossa, allora mi ha ispirato questa opera, tutti i bastoncini, quando il corpo assente, l'anima è presente, qui e qui esce lo spirito, perché il corpo non c'è più, complimenti, questa qua Marcello? Questa è lo stesso, sono i marcidi, siamo sul marcito, sì, sì, siamo sul marcito, sempre la coppia, perché l'uomo da solo non esiste, senza una creatura a fianco l'uomo non esiste. Allora, questo, diciamo due cose sul fiore, eccolo qua, reggo io, vieni. Siccome io ho le apie, la dolcezza, io faccio pure il miele. Il fiore? Che non ha mollate. Che non ha mollate. Eh sì, forse è un fiore gay, non lo so, perché non si fa succhiare, non si fa amare, un fiore gay sarà. Ha le fiori, lui. Questa Marcello che è lo studio, grideranno le pietre, e diciamolo. È il bozzetto per l'opera di Carlo Alberto Dalla Chiesa, un modellino. Che abbiamo già visitato l'altro giorno, lì davanti all'ex tribunale. Ho fatto delle provate per vedere se reggira. Bene. Allora.